Allora Sky Bar del Tivoli Hotel di Lisbona, siamo qui con Fabrizio More, Dermal Meter, rappresentante dell'Italia, l'Eurovision 2018. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ciao ragazzi. Allora, raccontateci subito quali sono le vostre impressioni, non tanto sulla città ma proprio sull'evento. Noi siamo proprio focalizzati sull'Eurovision, quindi faremo tutte domande legate a questo. La differenza ad esempio con Sanremo, perché voi siete ormai dei veterani, avete partecipato un sacco di volte a Sanremo. La parola veterana mi comincia a farmi fastidio. Perché la collego un po' a vecchio, capito? È esattamente quello che significa. No, dai, dai. Allora. Non ci voleva che fai vecchio. Ma no, lui ha detto raccontateci subito, era un imperativo, subito, allora subito, Eurovision, una grafica, un sacco di azioni, un sacco, non faccio il prima possibile, un sacco di lingue diverse, un sacco di emotività diverse, un sacco di paesi, un sacco di gente, incontri pazzeschi, dalla mattina alla sera, super stimolante. Ci ho messo 30 secondi, scusami. Sei stato bravissimo. No, allora, la differenza con il Festival di Sanremo, perché comunque a differenza di altri paesi, che portano dei ragazzi comunque emergenti, che non hanno magari tante esperienze, voi avete fatto tanti Sanremo, qual è la differenza sostanziale? Non c'è la differenza, nel senso che comunque non è il contesto che fa la differenza, ma è l'emozione che ti trasmette il contesto, cioè che assorbi la metabolizia dal contesto. L'adrenalina, la voglia che hai di salire sul palco, è la stessa. La paura che hai di salire sul palco è la stessa. Tutti i palchi sono qua. Poi se dobbiamo analizzare il punto di vista tecnico e pratico, cambiano molte cose, però questo non è il contesto per analizzare. È un riflettore importante, come un riflettore importante Sanremo. È un riflettore che ti mette addosso tanta responsabilità, soprattutto perché siamo qui, diciamo, in gara, virgolette, come viene espressa questa situazione, anche se più non è una gara. Io credo che sostanzialmente poi alla fine una cosa bella che chiude il cerchio ogni volta sia il ricordo che riesci a lasciare. È lì che ti potremmo dire la differenza che ci sarà a Sanremo, che c'entra starebbe il loro festival. Beh, saremo probabilmente da un punto di vista tecnico un po' più difficile perché c'è un'orchestra gigante. Quindi tecnicamente l'esecuzione proprio musicale è molto più difficile. C'è un'esecuzione musicale quando in realtà qui non c'è. Qui è voce su base, la base è già fatta, è fine, quindi tu canti, quindi c'è più concentrazione su quello che è la parte visiva, cioè telecamere, giochi di luce, eccetera, che sono spettacolari. Anche a Sanremo lo sono, però a Sanremo c'è tutta la parte tecnica, sono più 60 musicisti che suonano. Non è facile mettere insieme 60 musicisti, poi sono sicuramente bravissime, eccetera. Questa è una grande differenza tra l'Eurovision e Sanremo, sicuramente. Ho capito. Sul palco porterete un messaggio di unione tra le persone, tra le religioni. Ci sono molti seguaci dell'evento che appena è stata presentata la canzone ufficialmente per l'Italia hanno fatto dei parallelismi con un'altra canzone in gara, quella della Francia. Non so se vi è capitato di ascoltarla. Merci dei Madame Monsieur. Voi trovate delle correlazioni oppure pensate che non ci siano? Perché veramente tanti commenti che ho letto non di italiani quanto di stranieri facevano questo palacone. È un tema sociale come lo è il nostro. Quindi quando si entra nello stesso campo, diciamo, è neanche a volte facile fare delle analogie. Sono due canzoni secondo me molto diverse. Ma poi pervengono le analogie, nel senso che comunque... E pervengono somiglianze anche. Se si parla di un messaggio di speranza e se si parla di un messaggio di coraggio, di rivolza, non vengono. Assolutamente sì. L'anno scorso il vincitore dell'Eurovision, Salvador Sovralla, quando ha vinto fatto un discorso, ha detto la musica non è fuori d'artificio, la musica è il sentimento. Quest'anno, per il momento, la prima delle scommesse, in realtà è una canzone che ha tutti fuori d'artificio, se così vogliamo dire. Qual è? Eleni Fureira, Cipro, proprio la tua concittadina, tra virgolette. Qual è invece il vostro pensiero appunto su questo dualismo che c'è all'Eurovision? Vediamo tante canzoni con fuori d'artificio, ma anche canzoni con messaggi. Qual è? E' anche fuori d'artificio. Io la penso come soprattutto. La musica non è fuori d'artificio. Secondo me invece è anche fuori d'artificio. Cioè, qualsiasi cosa possa trasmettere emozioni. C'è chi si emoziona. Lo spettacolo è fuori d'artificio. La musica è in sé. Ma c'è chi, diciamo poi che in che analogia entriamo. Però c'è chi si emoziona con il fuori d'artificio accompagnato con la musica e c'è chi si emoziona con il messaggio. C'è chi si emoziona anche sentendo delle parole e basta. Senza musica. Quindi bisogna rispettare il mondo. Il mondo è assolutamente vasto. Assolutamente sì. Salvatore Sopralla ha espresso una sua opinione con la quale io sono d'accordo. Vuol dire che un pensiero sia più giusto di l'altro. Assolutamente. L'importante è che una condizione riesca a trasmettere un'energia positiva che sia un fuori d'artificio che sia una parola o che sia una melodia. Guarda, se ti emoziona va bene. La regola è sempre quella. Allora, messaggio di un'allianza di questa canzone che tra l'altro vedremo tradotta in varie lingue. Vedremo dei pezzi di brani tradotti in varie lingue. Non voglio parlare di politica però comunque vediamo che nel mondo la politica sta andando in una certa direzione. Secondo voi il vostro messaggio potrebbe aiutarvi o penalizzarvi nel piazzamento finale? Penalizzarci no. Se ci penalizza sarebbe veramente strano sarebbe strano perché noi non siamo qui a fare politica e della politica dalla politica siamo rimasti sempre lontani soprattutto con questa canzone che parla di persone che parla di comunità che parla di amore nei confronti della vita se la politica non è d'accordo con l'amore nei confronti della vita allora non si può definire politica il problema è che si deve il problema è che si deve politicizzare tutto qualsiasi cosa anche un messaggio d'amore e questo lo davano se non è d'accordo cerchiamo di stare a ridotta in un tempo sicuro nella politica soprattutto cantando una canzone in un'unità se dovesse dare un consiglio a un vostro collega italiano che magari ha un'idea negativa dell'Eurovision perché noi ci siamo tornati dal 2011 sta tornando in auge anno dopo anno cosa gli direste? vacci perché? vieni a farci un giro vieni a farci un giro con noi un collega italiano ma no in Italia nessuno ha un giudizio dell'Eurovision è una manifestazione apprezzata ed amata da da tanti artisti tantissimi artisti da tanti nostri collega e siamo felici di essere qui a rappresentare l'Italia perché tanti collega avrebbero stato al nostro posto e quindi questa è una grande responsabilità che ci portano sulle spalle e cerchiamo di farlo al meglio puoi trovare espirazione anche dove non te le aspetti anche dove non ti aspetti di trovare qualcosa di bello puoi trovarci il pregiudizio è questo che uscide uscide la possibilità di trovare qualcosa dove in realtà c'è e semplicemente per pregiudizio non hai guardato ma succede anche con le persone il pregiudizio di quelle bianche quelle nero lei è lesbica lui è gay sono tutte stronzate sono tutti muri che la gente ha in testa tu hai dei muri in testa se la pensi così e quando hai i muri in testa non riesci a guardare oltre magari oltre c'è un quadro bellissimo c'è il quadro che non hai mai visto o la canzone che non hai mai ascoltato capito? o l'amico che non avresti mai segnato ieri ho capito state per andare sul palco perché questa intervista la stiamo facendo poco prima delle prove generali di questo pomeriggio del 9 maggio e noi ovviamente seguendo l'Eurovision abbiamo già visto clip delle prove tutto però tanti vostri seguaci magari che si sono approcciati solo quest'anno all'Eurovision vogliono vedervi direttamente sabato cosa devono aspettarsi dalla vostra performance magari facendo anche una differenza rispetto a Festival di Sanremo sarà esattamente uguale sarà la stessa nuova e se venga magari riuscissimo a fare come abbiamo fatto Sanremo insomma andiamo lì a cantare una canzone non ci sarà una propria senza propria d'artificio zero solo le scritte sono le parole esatto i propri d'artificio sono nelle parole noi vogliamo che arrivi un messaggio non ce ne frega niente dallo scrittura ultima domanda ci interessate le emozioni e questa è una cosa importante allora l'ultima domanda dopo l'Eurovision avete già dei progetti europei ci state pensando state progettando insieme da soli ci stiamo pensando ci stiamo pensando naturalmente organizzare in Europa è un po' più complesso no? però visto insomma come siamo partiti non ci aspettavamo insomma il percorso che questa canzone ha fatto per questi mesi ci siamo conosciuti abbiamo riflettuto molto sull'idea di lavorare insieme abbiamo scritto questa canzone senza pensare a Sanremo senza pensare a vincere Sanremo andare all'Eurovision la vita è bella perché è così perché di punto in danco non succede quello che più lontanamente mi aspetta quindi perché no magari un giorno riusciremo a fare un tour insieme in tutta Europa sarebbe fantastico molto complicato come dice Herman da gestire da da fare io ci credo ci credo molto e noi crediamo in questa canzone e vi facciamo l'inbocca al lupo il più grande inbocca al lupo che possiamo fare i nostri rappresentanti e quindi a sabato in diretta su Rai 1 a partire dalle 21 grazie ciao ragazzi grazie ciao